Eccoci qua, in questo video parleremo delle domande drammatiche e del ritmo narrativo. Da parecchio tempo stiamo assistendo ad un fenomeno di velocizzazione nella narrativa. Un po' come accade nelle canzoni, le storie continuano a diventare più veloci, aumentano il loro ritmo, facendo sembrare molte storie precedenti, vecchie, lente e polverose. Questo avviene in vari modi, le inquadrature si succedono in maniera sempre più rapida, i personaggi parlano sempre più velocemente, molti passaggi narrativi subiscono un'ellissi, cioè vengono messi e sottintesi, i tempi morti vengono ridotti al minimo, le scene d'azione sono sempre più sincopate e rocambolesche, i tagli da scena a scena sono sempre più immediates res, ovvero si va subito al cuore della scena successiva, senza preamboli. Ciò nonostante, molte storie continuano a sembrare lentissime, noiose e inguardabili. Questo perché, nonostante tutte queste accortezze, il ritmo narrativo è rimasto lento. Questo può accadere per tre motivi. Motivo numero uno. Non c'è una progressione della posta in gioco, ovvero i personaggi non rischiano abbastanza, non mettono in gioco se stessi nella storia. Numero due. La narrazione è troppo lineare. Motivo numero tre. Non ci sono sufficienti domande drammatiche. In questo video ci concentreremo su quest'ultimo punto, le domande drammatiche. Anche stavolta si tratta di dare una nomenclatura a qualcosa di ovvio e di palese, con lo scopo di renderlo ancora più ovvio e ancora più palese, per riuscire a focalizzarci meglio su di esso, per riuscire a infilarlo nella nostra cassetta degli attrezzi, tirarlo fuori quando serve e farci un buon lavoro. Domanda numero uno. Cosa sono le domande drammatiche? Risposta. Le domande drammatiche sono tutti quegli elementi in una storia che creano un interrogativo, piccolo o grande che sia. La trama stessa è una domanda drammatica. Riuscirà il protagonista a portare a termine quello che è il suo scopo? Riuscirà ad ottenere ciò che vuole? La trama porta con sé la domanda principale della storia, ma come dicevamo, una domanda drammatica è qualsiasi elemento all'interno di una storia che crea un interrogativo, una curiosità, se vogliamo. Chi è quel tizio misterioso? Perché quella donna ha fatto quello sguardo da cospiratrice? Perché l'inquadratura si è fermata più a lungo sulla terra alla base di quella pianta? Quando verrà utilizzata la pistola che ci è stata mostrata nel cassetto? Ma anche riuscirà a vendicarsi? Riuscirà a sposarsi? Chi sposerà? Fermerà il cattivo? Riuscirà a comunicare la sua scoperta in tempo? Come ha acquisito quei poteri? Per quale motivo non parla più? Cosa nel suo passato lo ha reso quello che è? Che farà ora che sia ubriacato? Perché ha fatto quello che ha fatto? Quali sono i piani dei cattivi? Da che parte sta quel personaggio? Con i buoni o con i cattivi? Come si è procurato quella cicatrice? Cosa succederà quando tutti gli altri scopriranno quello che ha fatto? Chi sceglierà di salvare? Riuscirà a tener fede alla sua promessa? Riuscirà a fare la cosa giusta? Riuscirà ad accantonare i propri difetti ed egoismi? Riuscirà finalmente a ribellarsi? Riuscirà a trovare se stesso? Eccetera 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 Quindi quando cominciamo ad architettare la nostra storia ricordiamoci di dedicare una riflessione specifica e approfondita alle domande drammatiche che formano le svolte della nostra trama e riflettiamo su come e quando inserirle Interroghiamoci sulle informazioni che formano la nostra storia e domandiamoci come dividerle in due scene una scena che forma la domanda e una scena successiva, magari molte scene dopo che dà la risposta a quella domanda Le storie di tipo misteri sono quelle in cui le domande drammatiche sono maggiori e più evidenti come ad esempio accade in Lost in 12 scimmie o nel bellissimo Full Metal Alchemist o in 21 Century Boys ma anche le storie che non sono di genere misteri hanno bisogno di una componente di mistero di una buona escalation di domande drammatiche Ricordiamoci però che ogni domanda drammatica porta con sé una grande responsabilità Una volta inserita nella trama una domanda drammatica esige una risposta altrimenti ci ritroveremo con una trama piena di buchi e la risposta deve essere una risposta sensata e pertinente alla trama cosa che a volte lascia piuttosto a desiderare come accade ad esempio in molte parti di Lost o anche in alcune parti di Games of Thrones ma se guardate le sopraccitate serie 12 scimmie Full Metal Alchemist o 21 Century Boys vedrete che tutto si incastrerà a meraviglia rispondendo a più domande di quelle che lo spettatore si ricorda Ogni domanda drammatica porta con sé una scena obbligata ma delle scene obbligate parleremo un'altra volta un saluto dal vostro fedele scrittore di quartiere ci sentiamo alla prossima storia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti